Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale, giornata di giovedì che vedrà umida e corrente atlantica investire ancora buona parte dell'Europa settentrionale con molte nubi e da qualche acquazzone, meglio invece sul Mediterraneo grazie al nuovo rinforzo dell'alta pressione con clima tipicamente estivo, ma vediamo la situazione sulla nostra penisola dove il bel tempo sarà prevalente un po' ovunque con temperature che al nord-ovest sulle zone interne di Toscana e Lazio raggiungeranno in chi 32-33 gradi un po' di più variabilità diurna solamente all'estremo sud Italia con qualche breve piovasco, ma passiamo quindi al nord Italia perché la giornata sarà assolutamente estiva non solo sulle pianure ma anche lungo le coste e l'arco alpino, anche qui sarà molto basso il rischio di temporali, andiamo poi al centro Italia perché la situazione sarà assolutamente tranquilla sia sulle coste tirreniche che quelle adriatiche, da segnalare solamente nel pomeriggio qualche breve acquazzone che non mancherà sull'Appennino centrale e poi passiamo alla sud perché un po' di più variabilità interesserà un po' tutte queste regioni con qualche acquazzone diurno sull'Appennino così come le zone interne della Sicilia in locale sconfinamento anche alle coste tirreniche, meglio invece sulla Sardegna con ampi spazi di cielo sereno e clima molto caldo. Con questo filmete tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di traibimetro.com